Gentili telespettatori, buona giornata. Siamo in Alto Adige. Centinaia in difesa dell'hotel, no mascherine. Il titolare dice vogliono togliermi la licenza se non chiudo. San Candido, al Cavallino Bianco, molti vacanzieri, no Green Pass, hanno prenotato le camere disdettate. La deputata Kunial dice ho il mio ufficio qui. Molto probabilmente non è vero, poi vi spiegherò il perché dice ho il mio ufficio qui. L'hotel in Alto Adige, questo hotel Cavallino Bianco, viene colpito da un provvedimento di chiusura di dieci giorni, dal 5 al 14 agosto, firmato dal presidente della provincia, Arno Compatcher, per il mancato rispetto delle disposizioni Covid. I manifestanti che si sono stabiliti nelle stanze dell'hotel, svuotatosi di turisti dopo l'annuncio dell'imminente chiusura, con distette pari a 100.000 euro, vogliono esprimere solidarietà al titolare, ma soprattutto impedire la chiusura. dice o chiudo o mi tolgono la licenza. La mia famiglia gestisce questo albergo da 260 anni e adesso se non chiudo minacciano di togliermi la licenza. Dice questa è mafia. L'Alto Adige merita dirigenti migliori di questi, mostrando la lettera con il provvedimento di chiusura. Giovedì mattina 5 agosto l'hotel dovrebbe chiudere per osservare l'ordinanza emessa dalla provincia, ma il fronte critico verso la gestione del Covid, che ha prenotato per solidarietà l'albergo, difficilmente lo lascerà. Allora, a me fa piacere che ci sia questo albergo da 260 anni, tanto di cappello a degli imprenditori in questo settore che da 260 anni hanno un albergo, ma dire che se ti chiudono l'albergo è mafia e che i dirigenti dell'Alto Adige merita dirigenti migliori di questi. Insomma, allora parliamoci chiaro, parliamoci chiaro. Hanno sanzionato questo albergo perché in un controllo l'hanno trovato tutti senza mascherina. Caro il mio caro albergatore, te lo dico così come opinionista, se ci sono delle regole vanno rispettate, qualunque esse siano. Se ti dicono che per andare a sciare ti devi mettere il casco e te lo devi mettere. Se ti dicono che per guidare la macchina ci vuole la patente te la devi mettere, te la te la devi fare. Se ti dicono che non puoi strombazzare a luna di notte o mettere il volume a tutta forza non lo puoi fare. In uno stato ci sono delle regole. Che piacciono o non piacciono ci sono delle regole. Ci si deve attenere alle regole. Se hai un'attività commerciale, un albergo in questo caso, tu devi attenerti delle regole. Le piastrelle in bagno fino a una certa altezza. Per un ristorante penso che un albergo le regole siano una cosa immensa. Libri di regole, timbri, concessioni. Bene. Se lo Stato centrale o la provincia autonoma di Bolzano o di Trento stabiliscono delle regole in base a dei decreti centrali a Roma o delle leggi e vanno rispettate. Chi non rispetta le leggi deve assumersi la responsabilità che se viene beccato ci sono delle conseguenze. Pertanto se tu o qualunque altro ristorante, bar, piscina, palestra non si atterrà le regole del green pass obbligatorio e della mascherina e di quel cavolo che volete, bisogna tenere presente che si va incontro a delle sanzioni, a delle chiusure, a delle multe, alla sospensione della licenza. Ecco, il presidente della provincia, Arno Compacer, applica quella che è la legge, altro che mafia. Ma insomma, io direi al presidente della provincia che dopo le affermazioni di questo signore, le accuse di mafia, potrebbe anche intraprendere le vie giudiziarie e far chiudere immediatamente l'albergo, perché tu tieni l'albergo aperto, non rispetti le disposizioni di legge, poi quando vieni beccato parli di mafia, allora c'è qualcosa che non va bene. Hai avuto delle disdette pari a 100.000 euro. Eh, caro amico, se tu non rispetti le regole e sei assolutamente consapevole di non rispettare le regole, devi mettere in conto che se ti beccano e ti chiudono l'hotel per dieci giorni, dal 5 al 14 agosto, nel pieno dell'estate, con l'albergo strapieno, devi mettere in conto questo. Non rispetti le norme, tieni presente, ma un imprenditore di una famiglia che ha 260 anni, che ha un albergo, 260 anni è passato dalla prima guerra mondiale, è passato dalle leggi del regime fascista. Insomma, io credo che i tuoi avi durante i conflitti bellici c'erano anche, durante il regime fascista c'erano delle leggi di un certo tipo e se non le rispettavi il regime ti sanzionava e ti chiudeva l'albergo. Nel 2021, siamo in mezzo a questa pandemia, se tu non rispetti le leggi, devi capire che potresti avere delle conseguenze se vieni beccato. E adesso i tuoi centomila euro che perdi sono dovuti a te stesso, te la devi prendere con te stesso, non con il governatore, la regione, la provincia, che fanno rispettare fortunatamente la legge. Per fortuna che in alcune regioni si riesce a far rispettare la legge, perché non tutti gli ufficiali di polizia possono entrare in tutti gli alberghi d'Italia e controllare, lo faranno a campione. Siete stati sfortunati che è arrivato proprio il controllo e vi ha beccato e adesso bisogna assumersi la propria responsabilità. Perché la Cunial mette lì la sua residenza? Tra quelli che protestano, anche la deputata 5 Stelle Sara Cunial, che ha stabilito nell'hotel il proprio domicilio parlamentare. Se c'è ancora, dice, un barlume di diritto nel nostro Stato, nessuno oggi si può permettere di chiudere l'hotel. In questo luogo infatti si trova il mio domicilio parlamentare tutelato dalla legge italiana, dalla Costituzione e da diverse sentenze della Corte, dice la deputata sottolineando che senza autorizzazione della Camera nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare. Ecco, io inviterei gli organi inquirenti di verificare se questa deputata ex 5 Stelle Sara Cunial aveva il domicilio parlamentare prima di questa chiusura, cioè lei praticamente vive in questo albergo, all'ufficio nell'albergo in Alto Adige, ma chi la racconti? Dai, insomma, anche tu ex deputata devi assumerti la responsabilità di quello che stai dicendo, devi assumerti la responsabilità di quello che stai dicendo, perché attenzione, nessuno è al di sopra della legge, nessuno, nessun parlamentare, lei non sa chi sono io, io qua, l'autorizzazione, nessuno è al di sopra della legge, né l'hotel, né la deputata. Pertanto, con le vostre dichiarazioni assumetevi la responsabilità di quello che fate e dite. Arrivederci a tutti.